Buonasera a tutti, io sono Emma della Lilt di Cuneo, siamo qua al nuovo per la terza edizione della Pyjama Run, una corsa a favore dei bambini oncologici. Da quest'anno si può correre, camminare oppure andare in bicicletta. Abbiamo superato i 900 iscritti, quindi un grandissimo successo. Ciao, mi chiamo Giacomo, frequento la quarta liceo ed è il terzo anno in cui partecipo alla Pyjama Run. Ho scelto di partecipare a questo evento perché ritengo comunque sia molto importante sostenere la guerra contro il cancro e perché sono anche stato coinvolto in questa situazione perché la mia migliore amica appunto è stata vittima, uscita indenne per fortuna. Quindi è una gioia partecipare con lei a questo evento e spero che possa continuare e che ce ne siano altri. Oggi per noi è una giornata particolare perché vedere tanta gente che viene su invito della Lilt, su invito nostro per aiutare i bambini che soffrono è una delle cose più belle che ci siano perché i bambini non dovrebbero soffrire ma se soffrono dobbiamo almeno aiutarli a sopportare questo dolore in un modo diverso. Questo è il nostro compito. Tanto non guariremo mai i bambini, noi dell'associazione, sono i medici che fanno quello. Però aiutarli, aiutare loro e le loro famiglie a soffrire un po' di meno nella malattia, questo è un compito importante.